È abbastanza, Raniero. Grazie. Grazie per il contributo. Speriamo di fare altri incontri per la partecipazione tua. Allora, adesso vi parlo alla parola a Yana Hem, che ho pronunciato bene il nome, che è una compagna deputata della componente manifesta, che è una componente all'interno del gruppo misto. Dove intervenire Simona, che è qui con noi, mentre viene invece Yana Hem. Va bene? No, 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 no. Aspetta, facciamo così, guarda. Yana, ti metti qua. Vediamo questo esporto legittime di tutta Italia, che riesce anche nel mondo. Grazie. Grazie per la pace e contro anche alcune scelte. E così, guarda.